Siamo qui nella sede della CNA di Reggio Emilia a mettere in evidenza le varie problematiche delle riprese artigiane. Una cosa che chiediamo a gran voce è che il governo acceda a tutte le opportunità che la comunità europea metta a disposizione. Una di queste è il MES che è ancora solo in discussione, aiuterebbe i nostri ospedali a alleviare questo brutto momento che stiamo attraversando.